Vivi a colori è il titolo della nuova mostra del giovane artista contemporaneo Alessio Ferraro. Nonostante la tenere età, la sua produzione artistica conta più di 100 opere, ha il suo attivo diverse personali, partecipazioni a collettive, ed è stato premiato nel 2011 e nel 2012 al concorso di pittura a premio nazionale Gabriele D'Annunzio a Pescara. Alessio esprime attraverso la sua pittura il fantastico mondo di un bambino di appena 8 anni che non avendo vincoli e regole da rispettare sotto il profilo pittorico, riesce a volare liberamente e rappresentare tutto ciò che sente. Nel suo viaggio attraverso i colori è accompagnato dalla madre, l'artista Silvia Di Ramio, che espone con lui in questa mostra allestita nella Cappella del Corpo di Cristo nel complesso della Santissima Annunziata a Sulmona. Ogni anno, come al solito, abbiamo questo appuntamento in questo luogo per fare una mostra di pittura insieme, sempre io e mio figlio. Questa mostra in particolar modo è un invito a guardare il mondo con occhi diversi, con positività, con entusiasmo, con creatività, proprio come può essere il mondo di un bambino, il mondo di Alessio appunto, che dipinge con entusiasmo, con creatività, con istinto. Percepisce nelle sue opere tutta la vitalità e la voglia di vivere di un bambino sereno, che vive serenamente la sua infanzia. Alle opere di Alessio, che comunicano gioia, vivacità e allegria, si contrappongono quelle della madre, che cercano nella natura quel mistico silenzio che dona calma e tranquillità. In contemporanea con le due esposizioni di Alessio Ferrario e Silvia Di Ramio, è presente anche la mostra dal titolo Multiforme Fisiche e Mentali dell'artista Girolamo Ricchiuto, le cui opere giocano con la capacità percettiva del visitatore in una danza tra colori e forme.